Buongiorno a tutti, io mi trovo adesso, sono qui a un paesino di montagna dell'Abruzzo. Adesso sto collegando questa breve presentazione per una cosa che mi è successa l'altro ieri di notte, verso le 2.24 in questo paese che si chiama Rossello, in provincia di Chieti. Beh, non sarà un animale domestico e neanche un cinghiale, ho trovato proprio un cervo adulto. E la cosa inverosimile, sentendo alcuni paesani del posto, di questo paese e degli altri paesi qui a fianco, risulta che questo cervo adulto è difficile, proprio rarissimo, trovare in mezzo alla strada, che è una strada normale, che comunica questo paesino nella cosiddetta Val di Sangro di Chieti. Allora, adesso cercherò di unire questa breve presentazione, vi attacco questo video shock e poi lo divulgo su YouTube. Cerco di farlo abbastanza bene, speriamo, è la prima volta, c'è sempre la prima volta per tutti. Ciao, da Giuseppe, da Rossello, qua a Bruzzo, provincia di Chieti è tutto. Oggi è domenica, una giornata bellissima e splendida. Vi consiglio a tutti quelli che vedranno il video shock di prepararsi la prossima estate del 2023 di venire come turisti, come nostri ospiti qua in Abruzzo a Rossello, bello e selvaggio. Io metterò questo titolo, Rossello, bello e selvaggio, per farvi vedere un video shock, mio successo in macchina assieme alla mia compagna che ha urlato. Ciao, è tutto, da Giuseppe Marcone, vostro, spero di prendere molti like. diffondete tra i vostri amici e fate una buona pubblicità dell'Abruzzo, soprattutto. Rossello, bello e selvaggio. Ciao. Ma poverino, mi fate una rezza. In che arriva fino a Rossello questo. Può seguire fino a Rossello? No, è lui che sta lì. Lo vuoi superare o no? No, è lui, che ne so io dove devo voler andare. Perché se si è messo lui in mezzo alla strada, noi... andiamo, attento, che si è fermato, si è fermato, Giuseppe! Giuseppe, per favore, io ho paura, andiamocene, andiamocene, per favore, andiamocene, andiamocene. Andiamo, andiamo, per favore, andiamo. Andiamo in piazza. Andiamo, 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 non ti fermarà a casa adesso. Vai dritto. No, no, vai dritto, per favore. Buongiorno a tutti. Io mi trovo adesso, sono qui a un paesino di montagna dell'Abruzzo. Adesso sto collegando questa breve presentazione per una cosa che mi è successa l'altro ieri di notte, verso le 2.24, in questo paese che si chiama Rossello, in provincia di Chieti. Beh, non sarà un animale domestico e neanche un cinghiale. ho trovato proprio un cervo adulto. E la cosa inverosimile, sentendo alcuni paesani del posto, di questo paese e degli altri paesi qui a fianco, risulta che questo cervo adulto è difficile, proprio, rarissimo, trovare in mezzo alla strada, che è una strada normale che comunica questo paesino nella cosiddetta Val di Sangro di Chieti. Allora, adesso cercherò di unire questa breve presentazione. vi attacco questo video shock e poi lo divulgo su YouTube. Cerco di farlo abbastanza bene, speriamo. È la prima volta, c'è sempre la prima volta per tutti. Ciao, da Giuseppe, da Rosello, qua a Bruzzo, provincia di Chieti, è tutto. Oggi è domenica, una giornata bellissima e splendida. Vi consiglio a tutti quelli che vedranno il video shock di prepararsi la prossima estate del 2023 di venire come turisti, come nostri ospiti qua in Abruzzo a Rosello, bello e selvaggio. Io metterò questo titolo Rosello, bello e selvaggio per farvi vedere un video shock. Mio successo in macchina assieme alla mia compagna che ha urlato. Ciao, è tutto, da Giuseppe Marcone, vostro, spero di prendere molti like. Difondete tra vostri amici e fate una buona pubblicità dell'Abruzzo, soprattutto. Rosello, bello e selvaggio. Ciao.